L'emozione è tanta, per me è la prima volta in assoluto che entro come assessore al Consiglio Comunale. Le esperienze della mia vita sono state tante, per me le politiche del lavoro e le politiche della casa che sono le deleghe principali che mi sono state attribuite, tra le tante altre, sono da un lato matematica e dall'altro arte. L'amministrazione deve semplicemente mettere a sistema un po' di regole e la creatività che è propria della città di Napoli. Ancora un ultimo commento sulla delega alla statistica e a tutti i servizi che si porta dietro, che sono i servizi istituzionali e propri dell'amministrazione, ma che soprattutto significano il diritto e il dovere al voto dei cittadini, che per me è l'elemento fondante di ogni democrazia e di ogni concetto di partecipazione e di comunità. Quindi le delega tra di loro hanno un senso, non sono a caso, rappresentano un filo rosso nella vita dei cittadini e delle imprese della città di Napoli.